25 aprile è il giorno della liberazione dal nazifascismo è un giorno fondamentale della nostra storia io direi che il giorno in cui il nostro popolo scopre di avere un suo orgoglio di poter avere un suo orgoglio e che l'autobiografia della nazione non è soltanto quella e non è soltanto storia del fascismo ma che c'è anche una storia di ribellione in nome della libertà è spirito di libertà il 25 aprile e per questo non può secondo me esaurirsi in quella grandiosa giornata in quella grandiosa epopea è uno spirito di libertà che ha contribuito a scrivere una diversa autobiografia il paese il nostro paese non è un paese di codardi e non è neanche un paese di coraggiosi un paese di codardi e di coraggiosi e a volte prevalgono gli uni a volte prevalgono gli altri quindi hanno dentro di sé più storie e sicuramente quella del 25 aprile della resistenza della costituzione è un grande spiraglio in cui passa la storia migliore del paese ed è a questa che voglio rifarmi perché c'è bisogno di scoprire quello spirito più volte non è che andati via i nazifascisti sparito il nazismo dal nostro territorio le divise tedesche finito il dominio del fascismo la repubblica di salò noi non abbiamo più bisogno di quello spirito ne abbiamo bisogno sempre questa è anche una ragione che spiega perché tanti giovani desiderano iscriversi all'ampi perché ne sentino il richiamo ne sentano il richiamo si scopre che quello spirito di libertà va esercitato nei confronti di ogni forma di oppressione io ricordo le donne anziane donne parmigiane e reggiane che mi parlavano della resistenza quando mi confrontavo con loro su quello che mi era accaduto sulla violenza della mafia mi raccontavano le barricate mi raccontavano la storia delle loro famiglie come la mia famiglia è di parma appunto questa è la ragione di questi colloqui ed ero spesso invitato anche a reggio emilia per parlare nelle scuole e mi capitava poi di affrontare questo argomento e furono loro a dirmi ma guarda che quella contro la mafia è una nuova resistenza e lo dicevano soltanto in emilia non lo dicevano altrove perché lì era più forte il senso di quello che era accaduto colpiva le famiglie in modo molto esteso e mi sono reso conto che effettivamente così con lo spirito di libertà uno spirito che va ritrovato tutte le volte la meccanismi di consenso che si costruiscono intorno alle dittature le forme di oppressione vanno analizzate e colti tutte le volte e ogni volta bisogna avere il coraggio di ribellarsi di stare dentro l'autobiografia bella del paese e di darle nuova linfa questo è quello che penso io del 25 aprile è una giornata di libertà è una giornata di memoria è una giornata di dignità e di orgoglio e così voglio vivere anche questo 25 aprile fede